Una disposizione all'area canarda è un tipo di configurazione dell'aeromobile in cui la superficie orizzontale e stabilizzante si trova davanti all'ala principale. Tra l'altro fu la configurazione scelta per il primo velivolo riconosciuto come tale, cioè il flyer dei Fratelli Wright. Nel video, primo volo in Italia, su quello che di lì a poco sarebbe diventato il primo aeroporto italiano, quello di Centocelle, nella mia città natale, Roma. A differenza della configurazione tradizionale con l'ala principale nella parte anteriore e lo stabilizzatore orizzontale nella parte posteriore, la configurazione canard ha le superfici di controllo nella parte anteriore. Questa configurazione viene utilizzata principalmente per migliorare la stabilità e le caratteristiche di controllo di un aereo. La superficie stabilizzante nella parte anteriore genera una parte della portanza e fornisce stabilità, mentre l'ala principale genera la maggior parte della portanza. La superficie mobile del canard, che viene chiamata normalmente four plane, è responsabile del controllo del becchiechio. Può essere spostata verso l'alto o verso il basso per modificare l'assetto del velivolo. Quando viene deviata verso l'alto aumenta il momento di becchieggio portando il muso del velivolo verso l'alto, mentre una deflessione verso il basso di queste superfici mobile lo diminuisce. La configurazione canarda aiuta inoltre a ottenere un migliore equilibrio aerodinamico rispetto a una configurazione convenzionale, avendo una superficie nella parte anteriore del velivolo. Essa infatti viene utilizzata per generare deportanza, contrastando il momento generato dall'ala principale con la sua portanza. Questo equilibrio migliora la stabilità e riduce il rischio di caduta in stallo. Infatti, poiché il canard genera portanza, tipicamente va in stallo prima dell'ala principale. Quando il canard va in stallo tende a causare un fenomeno di becchieggio che aiuta a prevenire lo stallo dell'ala principale, migliorando la sicurezza e la manovrabilità complessiva dell'aeromobile. Dicevo che la superficie del canard interagisce con l'ala principale per influenzare la manovrabilità del velivolo. Recolando le dimensioni e gli angoli relativi del canard e dell'ala principale, i progettisti possono quindi controllare la stabilità del becchieggio, la manovrabilità e le caratteristiche di risposta del velivolo in maniera mirabolante. Se esaminiamo gli aerei dotati di canard ci accorgiamo che utilizzano spesso un sofisticato sistema di controllo da circa 40 anni a questa parte per coordinare il movimento delle superfici di controllo sia del canard che dell'ala principale. Questo sistema assicura il corretto controllo di becchieggio, rollio e imbardata. Può coinvolgere sistemi fly-by-wire computerizzati per ottimizzare le prestazioni di volo e la stabilità. In particolare sono interessanti le architetture di computer in serie parallelo coinvolte e gli algoritmi usati che al momento attuale sono gestibili in maniera da generare configurazioni di volo impensabili fino a qualche decennio or sono. È ovvio, ma voglio specificarlo per chiarezza, che le ali canard sono state utilizzate in vari velivoli militari, jet supersonici, velivoli dell'aviazione generale, ciascuno con le proprie peculiarità e vantaggi unici ottenuti e qualcuno di questi lo esamineremo.